Allora, Giovanni Barillari, perché sviluppa ancora web sincrono nell'era della Syncaio? Grazie Giovanni. Ciao a tutti, le slides sono in inglese ma la talk in italiano perché ci sarà una versione in inglese della stessa talk domenica. Appunto, perché sviluppo ancora web sincrono nell'era della Syncaio? Io partirei in velocità su chi sono, mi chiamo Giovanni, sono in realtà un fisico, non ho seguito esattamente una carriera accademica sulla programmazione, però diciamo che lavoro con lo sviluppo web da 2012 più o meno, quindi scrivo principalmente codice in Python, Ruby, Java, JavaScript, e dal 2016 sono CTO di Self e amo molto il mondo open source, lavoro con diversi progetti open source e questo è un po' quello che, chi sono io ecco. Prima di incominciare una piccola nota su questa talk, questa talk è abbastanza soggettiva nel senso che quello di cui vi parlerò è proprio perché io continuo a sviluppare web sincrono e un'altra nota su quello che andremo a vedere e che considero diciamo come sviluppo web inerente a questa talk quello che ha, quelle applicazioni che dialogano con un database. Non in senso che in generale senza un database non facciamo sviluppo web, ma diciamo per i fini di questa talk l'aspetto del fatto che ci sia un database collegato alla nostra applicazione è importante. Partirei su che cos'è la IOA sincrono. Beh, la IOA sincrono è diciamo un approccio che viene utilizzato per avere diciamo un livello di concorrenza a livello del nostro sviluppo dei nostri programmi che si basa sul fatto di processare e comunque continuare l'esecuzione del programma anche mentre facciamo delle chiamate alla IOA di sistema, quindi qualsiasi cosa che riguardi accesso su disco piuttosto che network, insomma tutto ciò che riguarda la IOA e quindi questo approccio è quello di evitare che il programma vada in sospensione seguendo le normali policy diciamo di sistema mentre appunto aspettiamo che arrivino i dati e invece continuare l'esecuzione diciamo del programma stesso e quindi diciamo si parla proprio di un approccio che sia non bloccante e l'IOA sincrono si basa su un concetto principale che è quello dell'event loop e quindi diciamo che tutto quello che oggi si intende come asyncIO si basa fortemente su questo concetto di un loop continuo di eventi quindi fondamentalmente è un sistema a callback quindi quando io vado a fare una chiamata a tutto ciò che concerne l'IOA in realtà continuerò l'esecuzione del programma e sarà l'event loop stesso che diciamo fornirà i dati che io aspettavo dall'IOA a una callback che io ho definito quindi fondamentalmente la sincIO si tratta di lavorare principalmente a callback un aspetto interessante dell'event loop è che può sostituire tutto quello che è lo scheduling di sistema a livello di IO quindi diciamo se ragioniamo a singola unità logica di processore può rimpiazzare quello che è tutto lo scheduler del kernel di sistema per quanto riguarda appunto le primitive e quindi tutto quello che riguarda questo sistema di sospensione dei processi e di riattivazione da parte dello scheduler di sistema quando poi effettivamente il dato è pronto e diciamo che questa cosa complica un po' le questioni se andiamo a pensare al multitrading nel senso che tutto ciò che concerne scrivere codice assincrono è fortemente in contrasto con il concetto di multitrading nonostante in realtà il risultato finale sia lo stesso però appunto è importante non confondere diciamo i due processi di scrittura di codice sono diciamo due modalità di pensiero molto diverse perché parlo di era della sincIO? beh perché diciamo che grazie appunto a questa relazione forte, a questo concetto di event loop e diciamo che grazie anche e soprattutto al fatto che è molto intuitivo rispetto al multitrading ha fatto sì che diciamo questa modalità di programmazione sia diventata molto popolare a partire da una piattaforma in particolare che è javascript cioè tutto il mondo della sincrono, diciamo della programmazione asincrona come la intendiamo oggi deriva fondamentalmente da javascript perché? perché javascript è stato diciamo creato come linguaggio per i browser e i browser sono fondamentalmente delle event machine cioè proprio perché rispondono fondamentalmente alle interazioni dell'utente quindi il flusso logico a livello di programmazione è proprio evento rispondo all'evento, renderizzo qualcosa quindi diciamo che l'event loop a livello di javascript ha trovato la sua fortuna proprio grazie al fatto che sia il linguaggio principe anzi fondamentalmente l'unico per adesso sui browser ma c'è stato uno step successivo nel senso che poi è arrivato Node.js Node.js non è stato il primo tentativo di portare diciamo javascript a un livello diverso da quello diciamo del front end development web ma è stato sicuramente quello di più successo perché? perché appunto ha abbracciato su tutto lo stack questo concetto appunto di event loop e di callback che si susseguivano e quindi ha trovato diciamo come platea un numero esorbitante di programmatori che in realtà erano già abituati a questo concetto cioè tutta la parte front end ha sempre funzionato a callback e quindi diciamo una delle ragioni di successo di Node è stata proprio questa e questo ha fatto sì che appunto negli ultimi anni abbiamo incominciato a si è incominciato a scrivere codice back end quindi tutta diciamo la parte retro delle applicazioni web in javascript con un linguaggio che appunto fino al giorno prima era prerogativa unica prerogativa del front end e questa cosa ha anche portato a un cambiamento radicale nel senso che appunto l'approccio all'IoA sincrono è fondamentalmente nato per sopperire al grosso problema di tempistiche molto dilattate sul aspettare diciamo appunto dati da tutto ciò che concerne l'IoA quindi è nato proprio per dire io devo fare una chiamata di IoA che sia di network che sia su disco eccetera eccetera non so quanto effettivamente dovrò aspettare questo evento e quindi diciamo che l'approccio di IoA sincrono sopperiva proprio a questo cioè è nata con questo concetto di dire visto che perderei un sacco di tempo tra virgolette nel senso che il mio programma resterebbe fermo per un tempo che non è a priori quantificabile diciamo che è stato il motore che ha innescato questa cosa ma appunto con Node.js con l'inizio di sviluppo dell'intero stack web quindi anche il back end con Io non bloccante è diventato fondamentalmente lo stile de facto con cui costruire applicativi web nel senso che oggi se chiedete a un programmatore javascript vi dirà no ma il web deve essere completamente asincrono dall'inizio alla fine che è una cosa un po' strana perché questa cosa vuol dire che per esempio su i database per cui fondamentalmente di solito abbiamo delle connessioni veloci è stato implementato un qualcosa che era indirizzato invece a connessioni di tipo molto diverso perché anche questa cosa? perché alla fine della fiera come programmatori odiamo abbastanza tutto ciò che riguarda il multitrading nel senso che ma ancora prima che arrivasse Node.js anche a livello accademico diciamo che passa molto il messaggio che la programmazione multitraded è un po' scomoda perché comunque è difficile stargli dietro non è difficile seguire il flusso del programma è difficile effettivamente avere un'idea di cosa succede perché comunque come persone non siamo abituate cioè a livello mentale è difficile effettivamente pensare in maniera concorrente cioè cose multiple che accadono ognuna ha il suo flusso e col multitrading tra l'altro c'è anche una questione di sharing delle risorse quindi diciamo che i thread sono sempre stati un po' una bestia nera della programmazione diciamo moderna in più nel mondo di Python c'è anche la questione appunto del global interpreter lock che come programmatori Python tutti prima o poi ci inciampiamo e non è sempre così facile capire effettivamente cosa faccia, cosa non faccia quali siano i limiti cioè effettivamente io sono in multitrading ma se io ho solo un interprete e alla fine viene eseguita solo una porzione effettivamente di codice dall'interprete per un momento il multitrading in realtà non è poi così reale quindi insomma tutte queste cose hanno fatto sì che visto che quando pensiamo al multitrading fondamentalmente l'immagine che abbiamo in testa è questa che la sync.io sia diventato diciamo un qualcosa molto più facile da comprendere da usare e quindi diciamo da Python 3.3 diciamo abbiamo stiamo convertendo su questa questa nuova modalità di scrivere codice concorrente e quindi siamo passati da quello che in realtà già esisteva prima in Python che era la sync implicito cioè prima dell'arrivo della della sync.io nella standard library fondamentalmente c'erano c'era g event c'era eventlet c'erano altre diciamo strategie per fare programmazione asincrona in Python senza passare attraverso i thread e però appunto col fatto che sync.io fornisce un delle API che sono obiettivamente molto più comode da usare diciamo che tutto l'insieme di questi fattori ha portato sì che ci spostassimo abbiamo iniziato a spostarci verso questo nuovo diciamo modello di programmazione asincrona che è quello dei futures delle coroutines e tutte diciamo queste nuove strategie che fanno parte del modulo della sync.io quindi fondamentalmente negli ultimi anni stiamo assistendo un po' a l'avanzata della sync.io cioè ci stiamo spingendo molto sul fatto soprattutto nel web di dire rendiamo tutto asincrono perché perché portare tutto asincrono ha dei vantaggi obiettivamente mi facilita la concorrenza fare un'applicazione web vuol dire lavorare di concorrenza perché fondamentalmente si spera che si aprano più connessioni possibili con i client si è fatto un'applicazione di successo e e quindi appunto diciamo che passare ad async.io è promettente anche perché sulla carta diciamo che ci sono due grossi pro evidenti il primo pro è appunto quello di aumentare il throughput cioè servire più richieste rispetto a quello che si poteva fare con diciamo uno stack sincrono e dall'altro lato avere comunque un codice a livello della mia applicazione che è più semplice è più esplicito mi dichiara perfettamente dove la mia applicazione va a fare effettivamente io quindi sono diciamo due grossi pro sul piatto che portano un sacco di programmatori a dire beh passo allo stack asincrono facciamo effettivamente tutto lo stack applicativo in asincrono ma la mia domanda è sicuri effettivamente che questi pro siano così evidenti e soprattutto quali sono i contro perché effettivamente anche io mi sono fatto la domanda no? ok voglio passare allo stack asincrono ma prima di dire vabbè mi metto lì vediamo un po' cosa c'è da un lato e dall'altro e quindi sono andato a vedere effettivamente fra questi pro sono partito da quello del throughput cioè benissimo la synch.io permette di aumentare il throughput ma è veramente così? è un mito? cioè quanto è effettivamente il guadagno lato delle performance a livello di applicazione perché il principio sulla carta è abbastanza promettente nel senso che siccome io fondamentalmente a livello di codice applicativo evito praticamente i content switch tra virgolette nel senso che evito di bloccare il processo in esecuzione mentre faccio comunicazione io quindi che sia network verso il database che sia lettori scrittori su disco eccetera eccetera a livello teorico sulla carta dovrei avere delle performance superiori in ogni caso nel momento in cui confronto qualcosa di asincrono con qualcosa che non lo è questo anche perché diciamo c'è questa nozione che il content switch a livello di async.io sia praticamente gratis cioè venga gratis non spenderò mai risorse a fare content switch con async.io perché in realtà continuo l'esecuzione del codice però c'è sempre il discorso che in realtà c'è sempre il gil sotto il global interpreter lock che sì ok però siamo così sicuri effettivamente di questa cosa perché spesso e volentieri si incominciano a confrontare a fare quei confronti che sono un po' confrontare le mele con delle arance cioè confrontiamo due cose diverse senza contare che effettivamente al di là di quello su cui lavoriamo noi che è uno stack molto alto se uno scende poi di stack e arriva appunto a degli aspetti un po' più low level non considera mai che sotto questo in motore ci sia ci siano degli altri limiti e poi soprattutto tutta questa nazione dell'io ma quando fate un'applicazione web siete sicuri che effettivamente la vostra applicazione sia iobound perché il concetto di iobound cioè è che è quella condizione per cui effettivamente io ci metto più tempo ad aspettare che i dati che ho richiesto arrivino piuttosto che a processarli quindi questo è il concetto un po' di iobound cioè un'applicazione iobound vuol dire la maggior parte del tempo lavora sull'io ma quando scrivete un'applicazione web siete in python siete sicuri che sia così anche perché appunto parlando del mondo reale siete veramente sicuri che il collo di bottiglia della vostra applicazione sia all'io perché non è una novità python cioè come linguaggio rispetto a tante altre soluzioni è lento beh è veramente lento nel senso che anche quando andiamo a ragionare a livello di database no c'è questa concezione che il database sia effettivamente la parte più bloccante a livello di applicazione cioè la parte che mi porta via più spazio no più tempo più risorse eccetera ed è vero ma su linguaggi che sono compilati su linguaggi che comunque hanno a livello di runtime un'esecuzione molto più rapida di python è vero per C è vero per C++ è vero per RAST è vero per insomma linguaggi che comunque a livello di stack quando effettivamente io vado a dialogare col database non si trovano in questa condizione qua l'immagine si vede poco bene questo è praticamente uno stack di analisi dei tempi che ci mettono diciamo i vari blocchi usando PyMySQL che è la libreria RAW con cui dialogare con i database a livello con database MySQL su python e se andiamo a fare l'analisi della parte diciamo a livello temporale che prende che veramente occupa io è la parte cerchiata in rosso tutto il resto è fondamentalmente parsing dei risultati da parte di python quindi solo cioè diciamo anche semplicemente facendo una select da database viene fuori che se andiamo ad analizzare veramente i tempi la parte di io è ridicola cioè se usare a sincaio mi permette di diciamo velocizzare la parte di io è la parte che fondamentalmente recupero non tenendo il processo in sospensione quello che viene fuori è che in realtà il processo sta in sospensione quanto? cioè a livello in realtà se io faccio l'analisi delle tempistiche una parte irrilevante in più c'è un altro aspetto che a sincaio è lento è lentissimo questo è un test fatto da Zik che è il creatore di SQL Alchemy e questo adesso non è molto aggiornato perché ha Python 3.4 però è evidente che se io uso altre soluzioni di concorrenza come i thread in Python 2.7 la sincaio è molto più lento quindi anche questo diciamo bisognerebbe farci due conti fortunatamente è arrivata una compagnia che si chiama Magistack che ha fatto una cosa fantastica si chiama UVloop è una diciamo soluzione alternativa all'event loop standard del modulo asincaio di Python che ha delle performance pazzesche nel senso che raggiungiamo livelli di concorrenza paragonabili a Go che è un linguaggio compilato è un linguaggio molto più veloce di Python e quindi dici beh allora effettivamente anche se asincaio ero in con l'event loop standard però con questo vado a bomba quindi usiamo questo perché faccio lo stesso numero di richieste a seconda in questo caso la scala stiamo parlando di 100.000 richieste a seconda fatte di connettendosi a un database e diciamo porto Python a un livello che è comparabile a Go però piano un attimo queste qua sono connessioni TCP cioè qua mi sto semplicemente collegando il database quindi sto semplicemente aprendo più connessioni possibili al secondo ma diciamo lo sviluppo web è un po' di più di aprire connessioni TCP ok va bene però Magistac ha fatto anche una libreria per Postgres per esempio e ha fatto un test di inserzione di righe quindi provo a inserire più righe possibili dentro Postgre e anche qua viene fuori che sono riusciti ad andare più forte di Go figata problema uno questa libreria in realtà è scritta in Sighton quindi in realtà non ho reso più veloce Python sto semplicemente scrivendo del gran codice C per cui in realtà questa roba sarebbe portabile su qualsiasi cosa cioè al di là dello stack asincrono cioè l'aumento di performance dipende molto di più dal fatto che è scritta in Sighton e poi c'è un'altra questione sta libreria qua non è compatibile con le db di python quindi fondamentalmente è inutilizzabile questo per dire che appunto lo sviluppo web è qualcosa di più del network quindi quando andiamo a pensare alle performance forse dovremmo prima chiederci ma cos'è che stiamo effettivamente misurando a livello di benchmark perché c'è un grosso problema riguardo i benchmark quando appunto andiamo a dire ah ma sinca io performa molto di più di dello stack sincrono e è un problema che in realtà deriva da un insieme di fattori la prima questione è che i benchmark spesso e volentieri che leggiamo in giro non sono comparabili tra di loro nel senso se io vado a prendermi falcon quindi tralasciando per un attimo la sinca io falcon che è uno dei diciamo framework python per fare web application soprattutto rest app più performanti che esistono su python io vado a confrontare i benchmark che loro pubblicano sulla loro pagina e viene fuori che se usate pypy invece che le interprete standard ottenete delle performance che sono allucinanti poi vado a vedere il benchmark che c'è su tech and power che è un'azienda che fa dei round di benchmark 3-4 volte l'anno e confronta tutta una serie di benchmark e viene fuori che con il loro benchmark in realtà pypy performa la metà rispetto all'interprete normale quindi questo è uno dei primi problemi con i benchmark nel senso ok io vado a vedermi un benchmark vado a vedere quello di fianco e mi dice la cosa estremamente opposta quindi cosa devo guardare devo effettivamente fermarmi ai numeri cioè chi è che ha ragione come faccio a valutare se effettivamente un benchmark è affidabile è riproducibile e l'altro problema è che quando io apro per esempio la repository di sonic che è un framework web asincrono e vado a vedere i benchmark che ha fatto lui dici minchia performa quasi il doppio faccio quasi il doppio delle richieste a secondo rispetto a falcon che era a livello sincrono una delle cose più performanti mai fatte in python e dici quindi uno sarebbe fermandosi al numero sarebbe preso diciamo a spostarsi immediatamente a questo nuovo sistema voglio dire riesco a rispondere al doppio delle richieste nello stesso tempo cioè è un risparmio anche notevole in termini di deployment a livello di macchine però c'è un problema questo benchmark cosa misura? è un hello world è una serializzazione di un hello world in json quindi io mi sento un po' così nel senso ok faccio 33.000 richieste al secondo sì ma di cosa? cioè nel senso lo sviluppo web è un po' più qualcosa di più di serializzare il low world cioè lo stack è un po' più complicato quindi come fare a capire effettivamente se questo famoso pro che viene messo a livello di async.io cioè passare ad async.io perché effettivamente riesco a rispondere a più richieste come faccio effettivamente a dire ma è vero? visto che guardando i benchmark in giro non sono in grado di capirlo ho detto va bene facciamo anche noi un benchmark mi sono scritto io un benchmark ho preso 5 framework diversi 4 sincroni e 1 asincrono Sonic in questo caso e ho detto va bene voglio dire scrivere un benchmark non è così difficile e quindi ripetiamo lo stesso test che ha fatto Sonic quindi diciamo serializziamo hello world intanto per capire se i numeri che mi da lui nella sua repository sono riproducibili e dico ok faccio il mio benchmark e viene fuori che effettivamente Sonic mi dà più richieste tra l'altro dovrei mandarlo al creatore di Sonic perché ho fatto più del doppio delle richieste che ha fatto lui in un secondo usando una macchina in locale quindi anche questa è interessante però al di là di questo viene fuori che intanto Sonic non fa il doppio delle richieste dei Falcon ok ne fa di più però diciamo che ok già da questa cosa si vede che è un po' più piccolo lo scarto ma comunque per forma di più perfetto però appunto come ho detto prima questo è un hello world facciamo un benchmark che sia realistico nel senso io alla fine faccio applicazioni web cioè non è che si realizza hello world quindi un benchmark realistico non lo so selezioniamo 20 righe da un database e se realizziamo quelle in JSON perfetto viene fuori che Sonic nel momento in cui ci attacchi un database non è più performante rispetto allo stack sincrono anzi diventa estremamente lento quindi diciamo che questo grande pro a favore forse il problema è che appunto quando facciamo dei benchmark quando vediamo dei benchmark dovremmo capire ok dovremmo capire cosa andiamo a benchmark e vabbè allora ho perso un po' il tempo va bene finisco in velocità perché il test del JSON di Sonic è più veloce perché in realtà implementa delle altre livellerie terze che vanno ad attaccarsi su delle altre componenti dello stack cioè Sonic usa micro JSON rispetto alla libreria standard JSON di Python che è più veloce usa HTTP tools di magic stack che anche quella è un parser dello stack HTTP più veloce che sono più veloci a prescindere a SyncIO non conta l'altra questione che era però a favore diciamo della SyncIO è il fatto che il codice è più esplicito nel senso che il principio è io quando vado a fare IO sull'applicazione ho immediata chiarezza su dove vado a fare IO c'è un problema se io lavoro con una database la mia applicazione praticamente fa IO ogni due passaggi quindi quello che in sincrono era una funzione del genere diventa così cioè nel senso per risolvere il problema di capire dove la mia applicazione fa IO vado praticamente a mettere una wait ovunque o uno yet from praticamente a Sync await everywhere l'altra cosa è che non ci sono più i thread locals quindi quella che diventava una su diversi framework diciamo gli oggetti che sono la richiesta la risposta la sessione o altre cose possono essere diciamo preservate a livello di contesto mentre in a Sync IO succede che io me lo devo sempre portare dietro perché non ho una preservazione del contesto quindi ci ritroviamo che il codice dell'applicazione è molto meno dry cioè don't repeat yourself praticamente in realtà a livello pratico stiamo andando a riempire cioè a scrivere del codice che in realtà è meno pulito vado direttamente alle somme per chiudere a Sync IO comunque figata rispetto a Node.js perché evito tutto quel processo di callback cioè posso scrivere del codice che effettivamente è molto più pulito rispetto a Node.js perché non ho tutto quel processo di encapsulare callback eccetera eccetera ma posso usare del codice che è quasi come del codice normale uvloop è una figata perché ha reso Sync IO effettivamente usabile in termini di performance con python 3.6 siamo arrivati a un buon punto di stabilità e però appunto ricordiamoci che concorrenza non vuol dire che le cose vanno più veloci concorrenza vuol dire che siamo più concorrenti cioè diventa più facile fare più cose nello stesso tempo ma non vuol dire che andiamo più veloci cioè mettete sempre in discussione il fatto di rendere una cosa sincrona o no considerate sempre i pro e i contro perché non è detto che ci sia la necessità effettivamente di rendere tutto sincrono e soprattutto soprattutto nello sviluppo web evitate di fare hype driven development cioè saltare sui carrozzoni la vostra applicazione le performance della vostra applicazione ve lo dico dipendono fondamentalmente dal codice della vostra applicazione il fatto di avere uno stack asincrono non asincrono non avete cose gratis alla fine la vostra applicazione è il centro di tutto il futuro è promettente ma secondo me non siamo ancora a un livello di async.io effettivamente usabile in maniera pulita a livello di applicazioni e però spero l'anno prossimo di essere qua a raccontarvi perché uso async.io nel senso che è molto promettente ci sono un sacco di cose promettenti ma al momento secondo me sono più i contro rispetto ai pro di passare allo stack asincrono grazie mille mi dispiace per il letardo ho perso due fogli su quattro grazie mille